Il comandante della Polizia Municipale di Pordenone, colonnello Arrigo Buranel, ha presentato al sindaco Claudio Pedrotti e all'assessore alla sicurezza Bruno Zille le nuove divise in dotazione agli agenti della sezione territoriale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Pordenone e Roveredo in Piano. Da oggi la Polizia Locale di Pordenone opererà con la nuova divisa operativa, in particolare l'unità territoriale che è l'unità che vigila sul nostro territorio, non opererà più con giacca e cravata come siamo abituati a vedere, ma sì con un uniforme che permetta di essere agili, pronti e di affrontare le varie situazioni operative. È uno sforzo che l'amministrazione comunale ha voluto fare, anche in termini di investimento, ma che ci permetterà sicuramente di svolgere il nostro lavoro meglio e soprattutto con più sicurezza operativa. L'attenzione che l'amministrazione comunale ha nei confronti della Polizia Municipale, soprattutto per adeguarla a quelli che sono i tempi, fa sì anche che in questa circostanza abbiamo adottato non solo di attrezzature, ma anche delle divise appropriate per poter intervenire. Tra l'altro è una norma di carattere regionale che prevede l'adeguamento anche delle divise. In ogni caso il Comune di Pordenone è sempre attento e disponibile per dare il massimo affinché questo organo di Polizia possa dare ai nostri concittadini il massimo del servizio, il massimo della visibilità. Questo contribuisce ovviamente anche per dare maggiore sicurezza ai nostri concittadini. Grazie a tutti.